Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Low Wall Pin Air Zone Trail Camino 37-42 da uomo e 35-40 da donna. Vediamone insieme pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questi due zaini. Come dicevamo, Low Wall Pin modello Air Zone Trail Camino, modello da uomo nel litraggio da 37 a 42 litri, modello femminile nel litraggio dai 35 ai 40. Per entrambi sono disponibili due taglie in base alla nostra altezza, modello da uomo pesa 1,4 kg, modello da donna 1,3 kg. E naturalmente vengono accomunati anche dal sistema Air Zone presente sullo schienale. Adesso come abbiamo visto le caratteristiche, vediamo nei pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale, sistema Air Zone di Low Wall Pin che però presenta una bella novità rispetto a quelle che abbiamo visto l'anno scorso. Ovvero, come potete vedere, nella parte centrale dove l'anno scorso trovavamo una semplice retina, in questo caso è vuoto. Cioè non c'è veramente nulla, c'è un grandissimo spazio in cui può passare aria e possiamo andare ad asciugare il nostro sudore. Vi assicuro che questo tipo di schienale è veramente molto 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 traspirante, perché comunque le zone di contatto tra lo schienale e la nostra schiena sono ridotte al minimo e c'è tanta parte dove si può areare. Quindi davvero, tenete poi a mente questo sistema perché sta un po' nascendo questo trend e lo vedremo anche in futuro anche su altri marchi. Però come primo assaggio per questo Low Wall Pin Air Zone vi assicuro di essere veramente ottimo. Per quanto riguarda poi la schiuma presente, beh, è classica Air Zone che comunque lavora bene, traspira bene, quindi in generale lo schienale è davvero fatto egregiamente. L'unica cosa è che se andiamo a caricare troppo lo zaino, dato che ha una struttura comunque molto aperta, tende quando andiamo a caricarlo sopra i 12 kg un pochino a scricchiolare, comunque non è più così strutturalmente adatto a portare un superiore carico rispetto ai 12 kg. Quindi diciamo che bene, però va bene come schienale se andiamo a portare pochi chili. Per quanto riguarda la fascia lombare, questo è lo stesso materiale che troviamo sullo schienale e devo dire che lavora molto bene. Lo scarico del peso con 12 kg al massimo è garantito. Troviamo poi due tasche, una a destra e una a sinistra, chiudibili attraverso la zip in cui possiamo mettere i nostri snack, il nostro telefono. Devo dire che le dimensioni sono abbastanza generose. Per quanto riguarda la clip di chiusura, questa è quella classica, molto semplice, lavora bene, anche a pieno carico non capita che si slacci, quindi ottimo direi. L'unica pecca riguarda l'assenza di cordini per raccogliere il cordame in eccesso che lasciamo quando andiamo a stringere completamente lo zaino per farlo aderire alla nostra vita. E' una mancanza che però io personalmente ho colmato mettendo semplicemente il cordame all'interno delle due tasche laterali. Infine a livello di spallacci, beh, classici, hanno la stessa schiuma con cui è fatta sia la fascia lombare che lo schienale, lavorano bene, hanno una sezione abbastanza ridotta, ma non è un grosso problema in questo caso. Davvero lavorano bene. Chiusura sulla parte a pettorale col fischietto, quindi classici spallacci, semplici, ma comunque lavorano bene. Passando alla parte posteriore, analizziamo uno dei due lati dello zaino che vi preannuncio già essere simmetrici, quindi ne vedremo soltanto uno. Troviamo innanzitutto due cinghie di compressione, una fatta a clip e l'altra invece semplicemente da tirare. Troviamo inoltre una tasca rete molto profonda in cui riporre la nostra borraccia e potremo molto facilmente sia prenderla sia riposarla in autonomia. Comunque una parte laterale è molto semplice, ne troviamo di simili in tanti altri zaini, però comunque è completa di tutto quello che serve. Passando alla parte posteriore, beh, innanzitutto avrete sicuramente visto questa struttura a ragno che ci permette di poter portare nella parte esterna degli indumenti. Quindi funziona bene se parliamo di indumenti o comunque di oggetti abbastanza semplici e leggeri. Per intenderci non ha le stesse funzionalità di una tasca rete. Ad esempio in una tasca rete, di solito ci metto dentro il mio kit medico, in questo caso non posso portarlo nella parte esterna. Quindi lavora bene, ma si portiamo degli indumenti. Ai lati di questa struttura a ragno da una parte troviamo la possibilità di portare entrambi i bastoncini, che volendo possiamo anche sdoppiarli nella fettuccia dall'altra parte se non portiamo una piccozza, perché questo zaino è pensato per poter portare due bastoncini sulla sinistra e una piccozza sulla destra. Quindi comunque una dotazione abbastanza completa. Per quanto riguarda la sacca dello zaino è divisa principalmente in due parti. Abbiamo la sacca superiore classica dove riporre tutti gli oggetti, e la parte inferiore dove poter andare a riporre un sacco pelo o comunque degli oggetti che utilizziamo o meno. Ha la separazione anche interna, che volendo possiamo andare ad aprire per avere lo zaino a sacca unica. E inoltre, ancora di più, se vogliamo raggiungere gli oggetti messi nella parte superiore dello zaino ma in basso, possiamo andare ad aprire una cernina laterale che va ad aprire longitudinalmente lo zaino. Quindi veramente c'è lo wall pin, praticamente ha messo all'interno di questo zaino tutte le varie tecnologie possibili per andare a stivare e recuperare gli oggetti all'interno della sacca interna dello zaino. Passando al cappuccio troviamo due tasche. È una tasca esterna molto generosa, è una tasca interna posta nella parte interna del cappuccio. Come dicevo, quella esterna è particolarmente generosa, ci sta dentro tanto tanto materiale, mentre in quella interna, essendo un po' nascosta, possiamo usarla più per oggetti personali. Infine, per quanto riguarda la chiusura invece nella parte superiore, questa è semplice, fatta dal stengolo, dall'accetto da andare a tirare per chiudere lo zaino e dalle due estremità per poterlo andare ad aprire. È qui che poi naturalmente si trovano anche i 5 litri in più di entrambi gli zaini, ovvero cosa vuol dire? Troviamo un po' di materiale in più che ci permette di andare ad aumentare di 5 litri il volume complessivo dello zaino. Per quanto riguarda il comparto acqua, Allora, troviamo nella parte inferiore il rain cover, per andare a coprirlo nel momento in cui dovesse piovere. Possiamo portare due borracce sui due lati e all'interno c'è anche la possibilità di utilizzare la sacca idrica. Quindi anche qua, dotazione completa. Dunque, arriviamo alle conclusioni per questi Low Alpine Airzone Trail Camino. Vengono venduti a 180 euro, online si trova già sui 150-160. Ve li consigliamo? Sinceramente sì. Sì, noi ci siamo trovati bene. Molto interessante lo schienale, davvero molto interessante, perché come vi dicevo poi lo vedremo anche su tanti altri zaini, quindi abituiamoci. In generale comunque abbiamo una dotazione completa, quindi non ci manca assolutamente nulla. Ed è uno zaino quindi perfetto sia per trekking giornalieri, sia per trekking di più giorni. Sì, soprattutto poi anche a livello di materiali. Qua è fatto il solito materiale con cui Low Alpine fa gli zaini, il solito nylon, quindi comunque anche a livello di materiali noi l'abbiamo stressato e ci siamo trovati molto bene. Quindi sì, ve li consigliamo. Detto ciao ragazzi, noi speriamo di essere stati esaurimenti e sostivi anche per questo video. Vi ringraziamo per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!